Siamo ad una settimana dal provvedimento governativo che di fatto ha detto stop al super bonus edilizio del 110% e anche a, diciamo soprattutto, all'accessione del credito, allo sconto in fattura, ripercussioni importanti sul settore dell'edilizia. Ne parliamo oggi con Giuseppe Balzano della Balzano Consulting Group che appunto ha il polso della situazione di tante imprese nella nostra provincia. Le difficoltà a seguito di questo decreto sono tantissime. Perché il settore dell'edilizia adesso ha subito, già da subito, un rallentamento importante. Noi come studio l'abbiamo vissuto in prima persona e l'esperienza è stata che in questa settimana abbiamo avuto quasi cinque disdette di nuovi cantieri che dovevano partire. Perché sostanzialmente con gli estremi del nuovo decreto riuscire a fare un intervento di super bonus, sia esso eco, sia esso sisma, è praticamente impossibile. Perché sostanzialmente i costi di mercato in questo momento sono molto alti. Non potendo avere la possibilità di poter cedere il credito agli incapienti, che praticamente sono nella nostra esperienza l'80-90% delle persone che si accingono ad iniziarsi i lavori, diventa veramente difficoltoso. Anche perché il super bonus ha una detrazione fiscale in quattro anni. Quindi riuscire a gestire importi grossi come quelli degli interventi di super bonus in quattro anni fiscalmente diventa estremamente difficile. Quindi c'è al di fuori della cessione, cioè al di fuori della quota che può andare in detrazione fiscale, c'è di conseguenza un grosso esborso economico da parte dei committenti. E non tutti riescono a sostenere un intervento del genere. Quindi abbiamo subito, abbiamo già appurato un forte stop delle attività. Questo è il presente stretto. La prospettiva quale può essere? La più negativa, imprese in difficoltà o addirittura messe in ginocchio? Non so se registrate anche questo sentore in questo momento e tante opportunità che vanno a decadere. Le opportunità che vanno a decadere sono tantissime. Noi sostanzialmente come studio, ma un po' tutto l'indotto che noi seguiamo da due anni e mezzo, grazie al super bonus, aveva fatto dei numeri importanti, sia come lavori sia come fatturato. Quindi anche ripercussioni nell'occupazione. Le grosse difficoltà sono che sostanzialmente questo stop velocissimo dei cantieri, perché ripeto, è un intervento che in pratica ci è capitato addosso dalla sera alla mattina, non permettendo la programmazione, anzi lo stop della programmazione degli interventi in corso, si ripercuote anche sulle imprese, sulle imprese edili. E quindi di conseguenza avrà una ripercussione anche sull'occupazione. Il super bonus andava ad aiutare le persone che avevano un reddito basso, però la conseguenza qual è? È che chi ha un reddito basso di conseguenza ha una bassissima capienza fiscale. Quindi è un qualcosa che va contro quello che era stato fatto dal governo due mesi fa. Questo che cosa succede? Succede che va anche contro quella direttiva europea, che è venuta fuori circa un paio di mesi fa o nell'ultimo mese, la quale impone ai fabbricati entro il 2030 e il 2033 di raggiungere delle classi energetiche abbastanza alte. E senza dei contributi da parte dello Stato diventa veramente difficile farlo. In tutto questo contesto non è tutto nero, ma esistono anche degli spiragli interessanti. Allora, diciamo che noi come studio l'abbiamo interpretato in questo modo, nel senso che sostanzialmente questo decreto si applica a tutte le pratiche edilizie, ovvero alle CILAS, ovvero ai lavori che non sono ancora iniziati, alla data di pubblicazione del decreto. Quindi sostanzialmente, avendo lavorato noi molto in precedenza, quindi abbiamo parecchi CILAS, la CILAS è la pratica edilizia che si presenta per avere il super bonus, avendole presentate diverse precedentemente, l'aspetto positivo che riteniamo possa avere questo stop, ma è un pagliativo, diciamo così, è il fatto che adesso avremo più tempo per poter far partire quei cantieri, che erano tanti e che devono partire perché ne hanno diritto. Avendo appunto presentato la pratica edilizia prima della pubblicazione di questo decreto.